La medicina di precisione per potersi affermare sempre di più necessita di un insieme di test molecolari che siano nel contempo efficaci, validati e condotti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono problematiche nuove anche per l'oncologia che però devono essere affrontate perché l'innovazione va decisamente verso questa direzione. Noi cerchiamo di farci spiegare un po' tutto ciò che sta dietro questo mondo dal dottor Giordano Beretta, segretario nazionale dell'Ion, quindi dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e responsabile dell'oncologia medica presso l'Umanitas Gavazzeni di Bergamo. Allora innanzitutto, dottor Beretta, una brevissima definizione dei test molecolari. Cosa sono, quali sono e a cosa servono? Quando noi parliamo di medicina di precisione dobbiamo pensare a farmaci che agiscono su un bersaglio particolare, quindi non genericamente sulla cellula tumorale, ma su un bersaglio particolare, sostanzialmente quindi come avere un interruttore da dover schiacciare. Il problema fondamentale è che noi dobbiamo conoscere la presenza o l'assenza di questo interruttore, quindi dobbiamo disporre di test che ci consentano di andare a verificare se in quel paziente, in quella patologia esiste la mutazione che è target per il farmaco che abbiamo a disposizione. Il problema è che i test attualmente disponibili per fare queste determinazioni sono relativamente recenti e quindi non tutti i laboratori sono in condizioni di farli, ma soprattutto non tutti i laboratori sono in condizioni di farli in modo adeguato. Avere un laboratorio che non è in condizioni di fare in modo validato, adeguato, sicuro, la determinazione di una particolare analisi molecolare rischia di portare a una impossibilità di trattare il farmaco malgrado il bersaglio ci sia perché non lo sia riconosciuto o al rischio di impiegare un farmaco altissimamente costoso, mi scuso per il termine ma è proprio per dare il significato, in un paziente che la mutazione non ce l'ha. Quindi di fatto bisogna arrivare a centralizzare per quanto possibile, standardizzare e validare i risultati di questi test in modo da essere il più vicino possibile alla realtà tutte le volte che se ne faccia a determinazione. Ecco lei ci ha fatto un esempio che secondo me spiega benissimo come stanno le cose, appunto i test per valutare i livelli di PDL1 che sono appunto il bersaglio dei nuovissimi farmaci immunoterapici, quindi il nivolumab e il pembrolizumab. Qual è la situazione nei test per il PDL1? In realtà qui non stiamo parlando in questo caso di vera medicina di precisione perché comunque non sappiamo ancora con esattezza quale sia il cut off, cioè il livello ideale della determinazione di PDL1 per definire se il paziente sarà o non sarà responsivo al trattamento immunoterapico. Però già in questo ambito si vede che in presenza di un unico possibile indicatore abbiamo quattro test che vanno a valutare quattro cose differenti che sono stati studiati dalle aziende che avevano sostanzialmente studiato anche il farmaco, che sono serviti per gestire gli studi ma che difficilmente possono essere generalizzati sulla base di quattro indicatori diversi. Bisognerebbe arrivare sostanzialmente a trovare un qualcosa che li accomuni anche per definire magari un livello di determinazione al di sotto del quale non vale la pena impiegare un determinato farmaco. Quindi c'è il problema dei test, c'è il problema dei laboratori dove vengono fatti i test che anche loro devono lavorare con certi standard e c'è il problema della valutazione, dell'interpretazione del dato, quindi di utilizzare tutti lo stesso metro. Per quanto riguarda i protocolli e gli standard IOM si sta muovendo. Ci racconta qualcosa? IOM già da qualche anno lavora insieme a SIAPEC che è la società italiana di anatomia patologica e citologia per definire quelli che sono i percorsi ottimali per determinate alterazioni molecolari e quindi fare delle linee guida per la determinazione ma al tempo stesso fare anche una validazione dei centri di riferimento. Cioè la partecipazione è volontaria ma una serie di centri italiani già ormai per diverse analisi molecolari hanno accettato di partecipare, hanno inviato i loro campioni al gruppo centralizzato che doveva validare. Sono state fatte le valutazioni circa la corrispondenza tra quello che era il referto ottenuto perifericamente e il referto ottenuto centralmente e c'è stata sicuramente una dimostrazione di buona qualità perché il livello di laboratori validati è stato molto alto ma abbiamo trovato anche qualche laboratorio che in realtà non ha superato il livello di quantità e di qualità e questa è una cosa importante perché certifica ancora una volta di più che dobbiamo arrivare a centralizzare nei limiti del possibile e validare quando non centralizzabile tutte queste determinazioni. Ecco ancora due parole prima di chiudere sulla biopsia liquida quindi un po' la nuova frontiera dei test molecolari. Se ci dice che cos'è e quando serve? Questa è una nuova frontiera nel senso che la biopsia liquida vorrebbe dire riuscire ad avere informazioni sul tessuto tumorale attraverso l'analisi del DNA circolante nel sangue. Quindi evitare la biopsia per fare soltanto una determinazione tramite un prelievo del sangue. Il problema vero è che in questo momento la standardizzazione della biopsia liquida sostanzialmente non c'è. Ci sono centri che sono in grado di dare delle risposte molto vicine alla realtà. Centri che ancora non hanno acquisito queste capacità e è molto difficile in questo momento correlare i risultati di un centro con l'altro. Questo è sicuramente il futuro ma è il futuro nel momento in cui ci sarà la certezza di una validazione che sia uguale in tutte le determinazioni. È troppo rischioso pensare di impiegare un dato di questo tipo se non si ha la sicurezza che possa essere realmente corrispondente al vero.